Anche i monnè hanno deciso di lottizzare. Bene, così avremo addosso un altro condominio con tennis e piscina. Tutto sommato perché non lottizzare anche noi? Tanto Massimo, qui non ci sta mai. Oh, grazie. Ma ritengo che i gruppi americani che rilevano gli stabilimenti industriali italiani in definizione non siano mossi da mero interessi. Sous-titrage ST' 501 riso scaloppine vino frutta banana e a proposito di quanto sopra ce l'ha il fidanzato no ma una ragazza come te 3.002 ti piace il cinema ballare o una vacanza le bar